Pronti per la terza puntata di Superquark 2022? Tutti i dettagli e le anticipazioni per seguire al meglio la nuova edizione condotta da Piero Angela. Stasera mercoledì 20 luglio andrà in onda la terza puntata Superquark 2022 sotto la storica conduzione di Piero Angela, scopriamo quando inizia, l'orario, le anticipazioni, chi sono gli ospiti di oggi, le rubriche e quante puntate sono previste. Leggi anche, Piero Angela, quanti anni ha? Età, moglie, figli, laurea, malattia, libri, Instagram Superquark stasera 20 luglio 2022, replica o nuova puntata? Quella che andrà in onda stasera in tv, mercoledì 20 luglio e, una nuova puntata di Superquark, non si tratta dunque di una replica ma della terza puntata della nuova edizione 2022. Ecco l'annuncio ufficiale, Superquark 2022 stasera, a che ora inizia? Orario, durata, quando finisce scopriamo, quindi, quando inizia stasera la terza puntata di Superquark 2022, l'appuntamento è su Rai 1, l'orario d'inizio è dalle 21 e 25 circa. La puntata finirà intorno alle ore 1-5. La durata complessiva è quindi di circa 3 ore. Superquark 2022, quante puntate sono? Le puntate previste per l'edizione 2022 di Superquark saranno complessivamente 7 e andranno in onda con cadenza settimanale ogni mercoledì. Cast, chi sono gli ospiti? Rubriche e anticipazioni in studio ritroveremo Piero Angela, storico conduttore del programma fin dalla sua prima puntata, andata in onda nel 1995. Al suo fianco numerosi inviati ed ospiti fissi che in questi anni il pubblico ha imparato a conoscere e che sono stati confermati anche per la nuova stagione, Alberto Angela, figlio di Piero, con la rubrica Archeologia Barbara Gallavotti Alessandro Barbero con la rubrica Dietro le Quinte della Storia Paco lanciano Emanuela Gennini con la rubrica Questione di Ormoni Massimo Polidoro con la rubrica Psicologia delle Bufale Paolo Magliocco Giovanni Carrada Elisabetta Bernardi con la rubrica LA Scienza in Cucina restate aggiornati anche con la pagina Instagram di per scoprire in anteprima tutte le news in merito alla terza puntata di Super Quark 2022 in onda stasera mercoledì 20 luglio, quando inizia, chi sono gli ospiti delle prossime puntate, le rubriche, le anticipazioni e l'orario della messa in onda. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.